Un punto da tenere stretto, quello che il Cerignola ha portato via dal Viviani di Potenza, 1-0-0 che tutto sommato lascia soddisfatti in casa giallo-blu, visto il quarto posto in solitaria. Nel primo tempo resta forse il rammarico di non aver spinto abbastanza, il Cerignola ha dimostrato di poter fare la partita, ma l'affondo decisivo non è mai arrivato. O meglio, gli uomini di pazienza c'erano quasi quando al cinquantesimo D'Andrea, tutto solo davanti al portiere, si fa ipnotizzare da quest'ultimo. Poco prima è arrivato invece l'episodio forse più controverso della gara, al 46esimo l'atterramento di Aschik, considerato fuori dall'area di rigore dall'arbitro, ha lasciato molti dubbi, dubbi che restano anche sul possibile doppio giallo risparmiato ad Armini, che è già monito. Al 26esimo è intervenuto in maniera ruvida sull'avversario. D'altra parte il Potenza non è certo restato a guardare, il Cerignola ha potuto contare su Saracco nella fredda serata lucana, una vera saracinesca. Le uniche vere note stonate, in vista del match contro il Crotone, fanno i nomi di Allegrini e Capomaggio. Il capitano Fantino ha rimediato un problema muscolare, difficilmente potrà esserci domenica. L'ex Fasano invece è squalificato per somma di ammunizioni, per pazienza due perdite dolorose. Il Crotone, come detto prossimo avversario di Giallo-Blu, non vive certamente un momento esaltante. La classifica si è complicata notevolmente, vista la fuga del Catanzaro che ora dista sei lunghezze. Sul campo la corazzata calabrese reduce dal deludente pareggio di Taranto, giunto dopo la vittoria, ottenuta fatica contro Latina in inferiorità numerica. L'audace ha dimostrato di potersela giocare con tutti, proprio il Catanzaro lo sa bene, avendo evitato il K.O. al Monterisi soltanto in pieno recupero. Affrontare una squadra di soli due anni fa in Serie A è motivo d'orgoglio e fascino. Con la consapevolezza di poter far male, la matricola terribile vuole continuare a stupire.